Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Cari amici, voglio iniziare citando una favola. È la famosissima La piccola fiammiferaia del danese Andersen. Fu scritta nel 1848. Questa è brevemente la trama. È la notte di Capodanno, la piccola fiammiferaia è in strada, al freddo, a tentare di vendere fiammiferi. Non ne ha venduto neppure uno e sta gelando, ma non osa tornare a casa perché teme la reazione che il patrigno avrebbe vedendola rientrare senza aver guadagnato nulla. Ella cerca disperatamente di scaldarsi e inizia ad accendere qualche fiammifero. Per ogni fiammifero acceso compare un'immagine, che poi sparisce allorquando la fiamma si spegne. Compare prima una stufa, poi un tavolo imbandito, poi un albero di Natale. Quando una stella cadente attraverso il cielo, alla piccola fiammiferaia torna alla memoria la nonna materna, che era solita raccontarle che ogni stella cadente è un'anima che vola in paradiso. Accendendo un nuovo fiammifero, la bambina vede sua nonna. Per prolungare quella visione accende velocemente tutti i fiammiferi. Quando anche l'ultimo fiammifero si spegne, la piccola fiammiferaia sogna di essere portata in cielo dalla nonna. Il suo corpo senza vita verrà ritrovato il mattino seguente, nella neve, con un sorriso in volto e un mazzetto di fiammiferi spenti in mano. Ebbene, diciamo subito che il tema della luce, che è il tema che è presente in questa favola, è anche un tema centrale nel cristianissimo. Ora il Natale è la festa della luce, perché è la venuta del mondo di Dio, che è appunto la luce. Nell'Antico Testamento si racconta che Mosè, dopo aver pregato il Signore, acquisiva un volto talmente abbagliante che doveva coprirlo per non accecare chi lo guardasse. La luce è il simbolo di Dio, perché unisce due elementi che sono nell'essenza stessa di Dio, la verità e l'amore. La luce fa conoscere, senza di essa non si può vedere, quindi non si può conoscere. Dunque la luce è verità. La luce però riscalda, da tepore, produce energia termica. Pertanto è l'amore che è appunto calore. Nelle liturgie dove si utilizzano le candele non è un caso che è di prassi fare in questo modo. Si distribuiscono le candele tra i fedeli, uno di questi attinge da un cero e poi passa la fiamma alla candela di chi sta a fianco. Il simbolismo è chiaro, ogni cristiano deve passare la luce, cioè deve trasmetterla. Questa luce non è sua, l'ha ricevuta e proprio perché l'ha ricevuta la deve trasmettere. Ma oggi chiediamoci quale luce passiamo. E poi siamo ancora convinti che esista la luce. Oggi è molto diffusa una sorta di cristianissimo pagano o se volete di paganissimo cristiano. Ci si dice cristiani, ma poi si pensa e si agisce da pagani. E questo avviene quando il valore della vita naturale viene posto al di sopra di quello della vita soprannaturale. Ma non solo. Oggi non c'è solamente il cristianissimo pagano o il paganesimo cristiano, che dir si voglia. C'è anche un cristianissimo senza luce, ovvero un cristianissimo senza più la centralità di Dio, di Cristo, della sua croce. E al posto di Dio è stato messo l'uomo. Tutti i discorsi che si fanno, dal vertice fino alla base della Chiesa, sono solo un preoccuparsi dell'uomo, un partire dall'uomo per arrivare all'uomo. E in questo, stoltamente, non si capisce che non ci potrà mai essere autentica promozione umana senza Dio. I veri diritti dell'uomo sono i diritti di Dio. Se questi vengono dimenticati, a pagarne le conseguenze non è Dio ma l'uomo. E allora torniamo alla favola da cui siamo partiti. La sapienza di questo racconto, del racconto appunto di Anderson, sta nel dirci che senza la luce la speranza è persa. La bambina, la piccola fiammiferaia, non si preoccupa che i fiammiferi sarebbero finiti e non avrebbe potuto vendere più nulla. Capisce piuttosto che essi le danno la possibilità di vedere la nonna, l'unica persona che veramente l'aveva amata, e li accende tutti. E noi invece, che rifiutiamo la luce, pretendiamo di vivere soddisfatti delle nostre tenebre, conservandoci stupidamente i nostri fiammiferi. Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di Podcast Cattolici in Italia. per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. 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 www.radioromalibera.org.